Ora, se non c'è altro, devo capire come collegarmi online. Oh, perché non me l'hai detto? Lascia, so chi può aiutarti. Guarda la Gorgon! Oh, la ragazza ha un passo galoppante per un annun super! Non se ne parla. Che cos'è? È uno dei miei biatti, voglio dire, Barbara, assemblati, tecno oggetti. Ho fatto qualche modifica, rilevamento di emergenza, teaser individuo nemico... Oh, il mio telefono aveva le app. Attenzione! Ti schifo! Tutti pensano che i pipistrelli sono raccapriccianti, ma sono una bomba! Fanno il meglio con quello che hanno. Non hanno la visione notturna, ma vanno a caccia di notte, quindi usano il talento che hanno e... Bam! Ecco localizzazione! Wow! Barbara! Chi è Barbara? Io sono Batgirl! Saliva in gola! Sono Batgirl! Sto arrivando! Scappa! Freccia tranquillamente! Buonanotte, bel pelosone! Ce l'ho qui! Oracon! Il mio Batgirl! Di corsa! Sì, Batgirl! Sto male! Batgirl! La devo allontanare dalla Kryptonite! Prendi il comando! Ricevuto! Mettiamoci al lavoro! Da questa parte, 8-bit! Un giretto? Oh, bene! Ti sei risvegliata! Spero che il bozzolo ti tenga abbastanza caldo. Non voglio che la mia nuova partner si becchi un raffreddore. La tua nuova partner? La nostra squadra si chiamerà Creature della Notte! Sì, perché siamo un pipistrello e una falena. Ho preparato anche le giacche. Porti una media, vero? Papà, aperti l'unità crimini speciali! Ho un criminale fresco fresco! Attenta, Barbara! Potresti strapparti un muscolo? E dai! Voglio dire, sei stata bravissima! Complimenti! Infine, su raccomandazione di Wonder Woman e con l'approvazione della facoltà abbiamo accettato una nuova super alla scuola per supereroi. Batgirl! 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 Sei grande! Brava! Batgirl! 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 Un mantello Per volare via verso la libertà Un mantello E potrò sconfiggere il mare Un mantello Destino Superkiller Girls Un mantello Un mantello Hoor Rare